Sei stanco di pagare le tasse? Oggi puoi ridurle ed utilizzare questi risparmi per far crescere la tua organizzazione. Per come farlo, te lo spiegherò nel prossimo video. Ciao, sono Luca, presidente del gruppo Remarca, gruppo di società costruite per eliminare i rischi agli imprenditori in materia di ambiente, sicurezza e medicina del lavoro. Il nostro motto è pronto intervento sicurezza in due ore o è gratis. Ora ti svelo il metodo e vediamo che cos'è il premio dell'INE. Probabilmente se hai un'impresa o lavori come dipendente in una società saprai che in base ai rischi tipo fisici, ergonomici eccetera, che sono sottoposti il personale alle diverse mansioni lavorative tipo videoterminalista, magazziniere, pulizia eccetera, si paga una cifra assicurativa per coprire il possibile infortunio sul lavoro. Tale cifra, chiamata simpaticamente premio, è in funzione del numero di dipendenti e delle tipologie di mansioni che fanno. È intuitivo capire che per impiegati, con il rischio principalmente da videoterminale, paghiamo una cifra piuttosto piccola, indicativamente un 5 per mille della propria retribuzione lorda, mentre se consideriamo un collaboratore che lavora in produzione avrà un rischio come rumore, rischi meccanici, rischi chimici eccetera e quindi il simpatico premio sarà notevolmente maggiore. Pensa che si può raggiungere percentuali anche oltre l'80 per mille. Facciamo un esempio per capirci meglio come funziona il calcolo del rischio. La ditta alfa che ha due dipendenti che svolgono ad esempio attività di ufficio è soggetta ad un tasso del 15 per mille. Se la retribuzione complessiva annuale dei lavoratori è pari a 40 mila euro, la ditta alfa deve pagare quale premio INEAIL 600 euro dati da 40 mila euro diviso mille per 15 che era il rischio. Probabilmente il tuo consulente della sicurezza o del lavoro o il commercialista non ti ha mai informato che hai la possibilità di sparmiare sino al 28 per cento dei costi dell'INAIL che ogni anno stai pagando inutilmente. Sì, hai capito bene, quasi il 30 per cento in meno ogni anno. Per ottenere questo importante risparmio che potrai richiedere ogni anno, occorre costruire insieme delle procedure e delle buone pratiche in materia di sicurezza. Dobbiamo totalizzare almeno 100 punti in una serie di domande richieste dall'entainer tramite un questionario chiamato OT24. All'interno del gruppo Remark, dopo più di dieci anni che svolgiamo questo servizio per centinaia di clienti, abbiamo messo a punto un sistema chiamato Global Service INEAIL per garantire di raggiungere e superare i 100 punti richiesti dall'INAIL con la garanzia totale. Sì, proprio così, siamo talmente sicuri di farti ottenere risparmio che ci pagherai la consulenza solo dopo che l'ente ti avrà risposto di averla accettata. Sì, una piccola percentuale del risparmio che otterrai, quindi senza alcun costo aggiuntivo per la tua organizzazione. Purtroppo, la parte negativa è che per implementare la procedura all'interno della tua organizzazione sarà necessario almeno un sopraluogo nella tua organizzazione e la nostra forza di fuoco non è infinita. Quindi, se sei interessato, guarda e leggi le testimonianze dei nostri clienti soddisfatti. Come sempre spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al nostro canale e se ancora non l'hai fatto, visita il sito grupporemar.it in cui potrai trovare la testimonianza di un nostro cliente nel Mantovano che ha risparmiato oltre 50.000 euro tramite il servizio esclusivo garantito al 100% Global Service INEAIL.